A Sassonia di Fano prosegue il progetto di riqualificazione voluto dall'amministrazione comunale. Quali sono le preoccupazioni di Fratelli d'Italia? Le preoccupazioni sono per l'imminente Pasqua. Siamo ormai a qualche settimana dai primi turisti come avamposto che arriveranno sulla nostra città. Ed abbiamo i lavori in corso. Cosa assolutamente assurda, non solo per i residenti ovviamente che hanno grandissimi disagi sia nella viabilità ma anche nel parcheggiare la propria auto, ma per tutti i turisti che arriveranno e magari molti vengono per prenotare la stagione estiva e troveranno invece dei lavori in corso e penso e immagino non saranno così felici. Allora questa amministrazione ci crede o no al turismo? E se ci crede come può giustificare un lavoro che arriverà come minimo a settembre quindi in piena estate visto perlomeno l'avanzamento ad oggi? Cantieri, cemento armato, cose che a ridosso di Pasqua non si possono vedere in una città che è la terza città delle marche e vuole avere un ruolo importante dal punto di vista turistico come è sempre avuto in questi anni. Sui lavori a Rastat qual è la vostra opinione? Ma intanto l'hanno demolito e da quello che vediamo i lavori che stanno facendo praticamente lo ricostruiscono alla stessa maniera più o meno magari senza la cavea che serviva tanti per fare musica piuttosto che eventi o teatro e quindi non capisco questa scelta dell'amministrazione di demolire e poi ricostruire la stessa cosa. Noi speriamo che l'amministrazione in maniera molto veloce trovi una soluzione per questo grande disagio. Comprendiamo che è un'amministrazione in scadenza e quindi da questo punto di vista avrà qualche difficoltà.